Buongiorno a tutti. Oggi vediamo a chi è rivolta la carta del docente, come poter utilizzare i 500 euro del bonus della carta del docente e cosa poter acquistare. Bisogna dire che questo bonus, questa carta del docente, è dedicata ai docenti in ruolo, anche a coloro che sono con regime di tempo parziale, quindi con un part-time. I docenti precari invece sono esclusi da questa iniziativa, possono accedere a questa iniziativa tramite ricorso con a seguito una sentenza favorevole e per l'anno scolastico 24-25 non risulta nessuna previsione circa l'estensione di questo beneficio anche ai docenti con contratto al 31 agosto, mentre l'anno scorso, nel 2023-2024, era stata estesa anche ai docenti con un contratto supposto al 31 agosto. Cosa si può acquistare? Sono tante le categorie di beni acquistabili, innanzitutto libri, testi, riviste e pubblicazioni, anche in formato digitale. Ci si può anche abbonare alle riviste, sia in formato cartaceo che in formato digitale. Non solo, si possono comprare hardware e software, quindi per fare degli esempi un pc fisso, un pc portatile, un tablet, ma risultano esclusi le stampanti, sono esclusi gli hard disk di memoria, quindi gli hard disk esterni o anche comunemente le chiavette USB di memoria e sono esclusi gli smartphone. Altresì è possibile acquistare le iscrizioni a corsi per attività di aggiornamento, accreditati dal Ministero, anche attraverso la piattaforma Sofia, iscrizioni a lauree trennali, lauree magistrali e a ciclo unico, iscrizioni a percorsi post lauream, come ad esempio master, diploma di perfezionamento e anche i percorsi abilitanti. Non solo, possono essere comprate anche i biglietti per i musei, per il cinema, per i teatri, per le mostre e per gli spettacoli dal vivo. Quanto dura il credito all'interno della casa del docente? Dura due anni, quindi il credito ricevuto nell'anno scolastico 24-25 scadrà il 31 agosto del 2026. Nell'anno scolastico 25-26 invece l'eventuale credito residuo, quindi quel credito non utilizzato durante l'anno scolastico 24-25, verrà riaccreditato insieme al nuovo bonus di 500 euro. Andiamo a vedere come è possibile utilizzare la piattaforma. andiamo su motore di ricerca e digitiamo carta del docente. La prima soluzione che ci fornisce i motori di ricerca è quella che serve a noi. Noi dobbiamo registrarci o accedere al servizio e possiamo utilizzare sia lo speed che la carta di identità elettronica. Una volta che siamo dentro la piattaforma noi abbiamo 30 minuti per poter effettuare le nostre operazioni e poter quindi generare dei buoni da utilizzare per i nostri acquisti. La piattaforma è molto intuitiva, abbiamo dei comandi in alto, tra cui il mio portafoglio, dove spendere i buoni, lo storico, il portafoglio e il manuale. Se noi andiamo a creare il buono, basta che clicchiamo su crea buono e ci apparirà la schermata per creare un nuovo buono. Abbiamo la possibilità di creare un nuovo buono per il cinema. In questo caso noi potremo scegliere di cliccare su abbonamento, se stiamo acquistando un abbonamento per più spettacoli, oppure se stiamo utilizzando il buono per un biglietto singolo, biglietto d'ingresso. In questo caso schiacciamo, clicchiamo su biglietto d'ingresso e inseriamo l'importo del buono. Questa tipologia di scelta, quindi abbonamento oppure biglietto singolo, noi la ritroviamo anche per mostre ed eventi culturali, per musei, per spettacoli dal vivo e infine anche per teatro. Diverso è invece il discorso per quanto riguarda la formazione e l'aggiornamento. Clicchiamo su formazione e aggiornamento e vediamo che noi possiamo scegliere tra diverse categorie di prodotti. Abbiamo le certificazioni, per le quali si riferiscono certificazioni linguistiche e certificazioni informatiche, i corsi di aggiornamento qualificati senza la direttiva 170 del 2016, che sono i corsi che permettono di raggiungere le 20 ore di aggiornamento professionale obbligatorie. Non soltanto sono enti accreditati, ma anche ad esempio per quanto riguarda la piattaforma Sofia. I corsi di laurea, quindi corsi di laurea trennali, magistrali e a ciclo unico, si intende ovviamente la tassa di iscrizione per questi corsi di laurea. I corsi post lauream, fare una distinzione, i corsi post lauream in questo caso si riferiscono ai percorsi abilitanti oppure ai diplomi di professionamento annuali e biennali, perché per quanto riguarda i master, noi abbiamo il bottone dedicato appunto a master universitari. E in ultimo i percorsi informativi delle istituzioni scolastiche. Se noi invece siamo interessati a comprare degli strumenti informatici, andiamo a cliccare su hardware e software. Hardware, se noi abbiamo intenzione di comprare un pc fisso, un pc portatile o un tablet. Software, se invece abbiamo intenzione di comprare un programma, come ad esempio un programma di videoscrittura. Attenzione, lo ricordiamo, sono esclusi da questa iniziativa gli hard disk esterni e le stampanti. In ultimo abbiamo la possibilità di acquistare i libri o riviste pubblicazioni. Nel caso ad esempio volessimo acquistare un libro, basterà cliccare sul bottone dei libri e inserire l'importo. Facciamo un esempio con un buono da 25 euro. Andiamo a cliccare su crea buono e ci apparirà una schermata di conferma di voler effettivamente creare un buono di 25 euro per i libri. È importante verificare sempre la categoria del prodotto scelto, perché altrimenti il buono non risulta valido, l'esercente non può scaricarlo e quindi non può neanche adebitarlo. Clicchiamo su conferma e ci appare il nostro buono. Noi il buono possiamo utilizzarlo nell'immediato, dunque mostreremo immediatamente all'esercente il QR code o il codice a barre, oppure noi possiamo salvare il buono in pdf e portarlo successivamente all'esercente. Se ci rendiamo conto che il buono è troppo alto, che quindi l'importo del buono è troppo alto o troppo basso, potremo tranquillamente annullare il buono, confermiamo l'annullamento del buono stesso e ci verrà restituito il credito utilizzato per la creazione del buono. Torneremo quindi al nostro portafoglio nei quali abbiamo diverse voci. Abbiamo il residuo della carta del docente, i buoni da spendere e i buoni già spesi. Se notate abbiamo un importo, questo perché ci indica quanto importo abbiamo inserito all'interno dei buoni da spendere o quanto importo abbiamo già speso. Diverso è il discorso per i tuoi buoni, perché ci indica con un numero progressivo da zero se non quanti buoni abbiamo o già speso o da spendere. Inoltre, guardiamo lo storico del portafoglio, nei quali troviamo le annualità per le quali abbiamo avuto l'erogazione di 500 euro della carta del docente e l'eventuale residuo che ci verrà poi riaccreditato con il nuovo anno scolastico. Ricordiamo che il credito vale due anni, quindi l'importo erogato nelle 24 e 25 andrà a scadere il 31 ottobre 2026. In ultimo, andiamo a vedere la sezione dove potremo spendere i nostri buoni, nel quale troviamo tutto l'elenco dei punti vendita, che siano sia fisici che digitali, nei quali poter spendere, quindi poter usufruire dell'iniziativa della carta del docente. Basterà ricercare attraverso il nome del negozio, oppure attraverso la provincia, oppure diversamente attraverso il bene. Andiamo ad esempio a vedere formazione e aggiornamento, possiamo mettere in un qualsiasi corso di laurea e applichiamo i filtri. Ci appariranno quindi tutte le istituzioni che permettono di utilizzare il buono della carta del docente per quella categoria di prodotto. Schiacciando il tasto home effettueremo direttamente il logout e quindi per poter rientrare all'interno della carta del docente, all'interno della piattaforma della carta del docente, dovremo cliccare nuovamente su accedi. Grazie per l'attenzione.